Inaugurato a Prata d'Anzidonia il cantiere per il recupero del complesso medievale di Castel Camponeschi, intervento attuato dal Consiglio regionale con le risorse del Fondo Complementare del PNRR. Teatro all'aperto, museo archeologico, piazze, terrazzamenti, ristorante, albergo. Questi gli elementi più innovativi del progetto del borgo dell'architetto Alejandro Bozzi. Opera di riqualificazione intrapresa dal Comune e dal Consiglio. Il primo lotto è già finanziato con 3 milioni di euro, ma ci saranno altri stanziamenti. Diciamo che noi diamo una mano a colmare di solito le lacune più tipiche in cui impattano i nostri piccoli centri, ovvero quelli di non avere il personale necessario e in alcuni casi anche le competenze per affrontare grandi opere. In questo caso il Consiglio regionale ha aiutato il Comune di Prata a raggiungere l'obiettivo di spendere e spendere bene e anche completare la provvista finanziaria per la riqualificazione integrale di Castel Camponeschi, che è un luogo a me carissimo, le dicevo prima scherzando che mai avrei pensato quando ero ragazzo e venivo qui di tornarci poi da Presidente del Consiglio regionale per il giorno in cui vengono consegnati i lavori di riqualificazione. Castel Camponeschi diventerà un luogo di grande attrazione, con una riqualificazione complessiva integrata che non stravolgerà minimamente il contenuto artistico e storico che già rappresenta, ma che porterà qui centinaia e centinaia e centinaia di persone che verranno per iniziative, manifestazioni, convegni, cerimonie, animando l'economia della Piana e facendo tornare a nuova vita questo splendido monumento medievale che è alle nostre spalle. L'area, in questo modo, diventerà un attrattore culturale per il turismo sostenibile ed esperenziale. Il borgo è del XIII secolo e rilancerà anche tutta Prata d'Anzidonia. Oggi iniziano i lavori, si fa la consegna dei lavori del primo lotto per il recupero di Castello Camponeschi. In totale i lotti sono tre. L'obiettivo è completare i lavori e avere l'attività insediata entro il 2026, che sono anche i tempi che ci dà il PNRR a livello europeo. Dopodiché la forza di questo progetto è anche nel fatto che abbiamo già un partner privato per la gestione futura dell'attività e è un partner privato molto qualificato e molto motivato a portare avanti l'iniziativa.